Al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, l'evento internazionale più atteso dell'anno. Direttamente dall'Inghilterra arrivano gli Stomp, lo show campione di incasse in tutto il mondo a proda ad Avellino per l'unica data italiana del 2013. Preparatevi ad assistere ad uno spettacolo unico, in cui a suonare saranno rastrelli, bidoni, spazzoloni, pneumatici, lavandini, Stomp. Dal 26 al 31 marzo, in esclusiva al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Per informazioni www.teatrogesualdo.it 0825 771620